Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, signore e signori, benvenuti, bentrovati, ancora una volta, cosa ve lo dico a fare? Salto nel buio, il programma per EIW Italian Podcast dove vi racconto le cose più interessanti di Dark ed Elevation, i due programmi gratuiti sulla piattaforma YouTube della All Elite Wrestling. Quindi, come al solito, gettiamoci subito nel vivo della mischia. Bel, bell'incontro, ovvero abbiamo Rio contro Kylen King. La King, lo sapete, ormai mi ripeto, è una delle mie beniamine, una dei prospetti che io seguo con più attenzione e con più affetto. Qui lavora contro Rio e abbiamo veramente uno scontro tra due fisicità completamente, diametralmente opposte che però, grazie alla magia del wrestling, trovano un punto d'incontro, dando vita ad un incontro decisamente molto gradevole e molto, molto coinvolgente. Rio ha dal suo il fatto di saper connettere con il pubblico subito. La King riesce invece a portare avanti il lavoro con grande mestiere e riesce a tenere il passo con una grande professionista come Rio, che, nonostante la giovane età, può contare già una discreta e svariata esperienza. Sicuramente molto di più di quella che può avere la Kylen King. Però, insomma, le due lavorano molto, molto bene insieme e la differenza di stazza gioca a loro favore nel raccontare una storia. Forse banale, forse semplice, forse scontata, ma che funziona veramente alla perfezione in questo contesto. E non c'è niente da dire, funziona tutto benissimo. L'incontro è veloce, bello, divertente. Giocano tutto sul confronto tra Davide e Golia e alla fine vince Rio, che è ovviamente la lottatrice più famosa, più di carattura, ma non per questo la Kylen King fa una brutta figura, anzi tutt'altro. Dimostra di poter lavorare anche con professionisti di grandissimo, grandissimo livello, che sono in grado di tenere ritmi elevatissimi. Quindi una bella prova per entrambe, sicuramente una prova molto, molto convincente per Kylen King, che, lo sapete, è una delle mie preferite. Incontro Trios abbiamo da una parte i private party con Mattardi contro il Dark Order nella formazione di Alex Reynold, Five Angel e Colt Cabana. Lo dico ogni settimana, ormai sarete stufi di sentirmelo dire, il Dark Order in qualunque formazione, tag, trios, singolo, è sempre un piacere da vedere sul ring. E io sono un grandissimo estimatore di Colt Cabana e non posso che essere contento di vedere che in questo stint in AEW si è ritagliato uno spazio in cui riesce a far vedere anche quello di cui è capace. Non è più nel fiore degli anni, ma la maestria è sempre quella. Le sto accenando da molto tempo, i membri del Dark Order sono in grandissimo spolvero, stanno spingendo tantissimo sull'acceleratore a livello di prestazioni e si vede assolutamente. Non so cosa riserverà loro il futuro, ma in questo momento il presente è molto rosio, almeno per quello che concerne l'azione tra le corde. E questo incontro non fa assolutamente eccezione. I private party con Mattardi fanno il loro lavoro, sono ill, sono cattivi, sono subdori, sono perfidi e non si lavano i denti la mattina. Insomma, fanno tutto quello che devono fare per svolgere il loro ruolo. I private party non sono ancora al 100% fisicamente, ma stanno tornando ad ottimi livelli. Mattardi non è mai stato al 100% fisicamente e si attesta sui soliti livelli. Ma l'alchimia tra questi due gruppi, tra queste due formazioni, a Dark, all'Elevation si vede e stanno facendo comunque molto bene. Stanno raccontando qualcosa, è un piccolo feud, è una storia minore, ma porta avanti comunque gli incontri molto bene e dà a chi di dovere lo spazio sul ring per fare esperienza e continuare ad accumulare ore di lavoro. Insomma, è questa la funzione di trasmissioni come Elevation and Dark, concedere alle persone spazio di visibilità e accumulare esperienza lavorando con altri professionisti. Non si può veramente chiedere di più. Questo incontro racchiude la sua funzionalità e la sua essenza esattamente in questo principio. Tech Team Action Abbiamo Kingston e Penta contro gli Hybrid 2. Non sono un grandissimo estimatore della copiata Kingston e Penta, ma tant'è, facciamo un buon viso a cattivo gioco. Li troviamo a Elevation contro gli Hybrid 2. Un altro Tech Team che non mi fa impazzire, ma è questione di gusti personali. Il livello del lottato di questi due performer non si può assolutamente mettere in discussione. L'incontro è decisamente godibile, molto vissuto, molto intenso, con pochi momenti di stanca, nonostante sia un match di una trasmissione decisamente secondaria. Tutti i protagonisti spingono sull'acceleratore e non si risparmiano. Quindi ci regalano un Tech Team veramente pregno di azione, di interazioni, di colpi subiti e dati. Non si può chiedere di più a un main event di Elevation se non questo. La grande problematica di questo incontro è probabilmente un pochettino nella storia che l'accompagna. Ripeto, un po' deboluccia la storia che porta insieme Kingston e Penta, ma noi godiamoci per il momento quello che vediamo sul ring e come dicevo, un incontro decisamente interessante, ma d'altronde i performer sono tutti di altissimo livello, non poteva essere altrimenti. Come dicevo, la cosa buona è che non hanno lavorato col freno a mano tirato. Ovviamente non è un match da pay per view, ma non è neanche un match tirato tanto per fare. Insomma, merita la visione, sicuramente insieme agli altri due da me citati è la cosa più interessante di questa puntata di Elevation. Passiamo a Dark e incominciamo con un incontro molto interessante. Overe abbiamo Lee Johnson contro Vary Morales. Entrambi li abbiamo già visti a Dark e a Elevation. Lee Johnson ha finito un po' in sordina la sua stagione nonostante una grandissima partenza pre-pandemia, ma anche qui comunque fa vedere molto bene perché è uno dei prospetti più interessanti da tenere d'occhio per il futuro. Vary Morales si fa comunque valere assolutamente. È un incontro molto veloce con tanti cambi di fronte, una fast action paced veramente molto molto divertente, molto veloce. Non bisogna perdere l'attenzione perché si rischia di rimanere altrimenti un po' frastornati, ma merita assolutamente la visione. Sono due prospetti molto interessanti. Lee Johnson giovanissimo, può veramente veramente dire la sua. Ha tantissimo tempo ancora per crescere, anche se la sua primo stint è un pochettino andato a calare. Non ho dubbi che può fare e dire ancora molto. E questo incontro lo dimostra, soprattutto per quello che concerne la parte in ring, la prestazione sul quadrato. deve crescere probabilmente ancora molto su tutto quello che è il resto della performance, ma tra le corde sicuramente può già dire il suo. E questo non è assolutamente poco se ti concede di ritagliare dello spazio comunque per avere visibilità a dark o ad elevation. E chissà che col secondo show non possa fare qualche cappatina anche lì. Insomma, guardatelo, è un incontro molto divertente, molto carino, facilmente fruibile, ma vi lascerà decisamente soddisfatto. Frankie Kazarian contro JD Drake. JD Drake ha trovato nei Wingman la sua dimensione insieme agli altri membri della stable e come ho spesso detto questa è una delle grandi magie e dei grandi misteri del wrestling. Quando prendi dei performer che sulla carta non hanno niente in comune, sembra che assolutamente non possano funzionare, sembrano una cosa destinata al fallimento e invece la somma delle parti dà un risultato superiore alle aspettative e incredibile, ma vero, funziona. Questo è il caso dei Wingman. Qui abbiamo JD Drake contro Kazarian, un incontro tra un grandissimo professionista, un performer, che io continuo a dire che è sottovalutatissimo soprattutto sull'azione in ring, ma anche extra ring, contro JD Drake, personaggio, performer, molto particolare sia fisicamente che tecnicamente, ma che col giusto avversario può veramente fare molto bene. Ha una fisicità particolare, ha un magnilismo particolare, ha un moveset particolare, è subito riconoscibile. E questo è uno degli elementi più importanti per un lottatore. E qui contro Frankie Kazarian fa vedere finalmente quello di cui è capace, riesce a spingere un pochettino di più e fa vedere ancora un po' di miglioramenti, qualche cosa in più, soprattutto dal punto di vista della determinazione, della sicurezza, della capacità di stare sul ring. Kazarian, come dicevo, è un performer assolutamente eccezionale, io non ho dubbi sul fatto che avrebbe meritato qualcosina in più, qualche parcoscenico migliore, ma sta comunque facendo bene e non Elite Wrestling ha trovato una dimensione sicuramente adeguata a lui. Adesso che si trova spaiato da Christopher Daniels si sta ricostruendo in un personaggio interessante per quello, che è ovviamente l'Under Mid Carding, che fa assolutamente comodo avere un professionista di questa caratura a questo livello della card a fare un po' da chioccia, un po' da mentore, un po' da pungolo ai lottatori della nuova generazione. Insomma, questo incontro è un altro di quelli molto funzionali e molto interessanti perché permette a performer meno navigati di confrontarsi con grandissimi, grandissimi professionisti. Ultimo incontro, Sonic Ease Control Blade. Incontro decisamente superiore alle aspettative, come ho già avuto occasione di dire e di ricordare, Sonic Ease ha avuto un bel miglioramento nell'ultimo periodo e gli incontri che sta facendo, che sta disputando, lo stanno dimostrando ampiamente. Qui trova Control the Blade, un lotatore che per quanto abbia un aspetto, un modo di porsi che lo fa sembrare molto, molto sopra le righe, in realtà sul ring è decisamente più ortodosso di quello che uno possa pensare e possa credere di primo attacchito. E tra i due l'alchimia funziona. Sonic Ease con il suo modo di fare molto esagerato, i suoi magnerismi, il suo caratter molto, molto segnato, il suo modo di essere, il caratter molto, molto deciso, che riflette la sua vera natura, il suo vero io, il suo vero essere, portato all'estremo sul ring, lavora molto bene con un personaggio molto più ruvido, duro, squadrato con The Blade. Sul ring poi hanno trovato una buona intesa e danno vita a un incontro sicuramente molto interessante. Come dicevo, appunto, lo stile ruvido, basico di The Blade si sposa bene in contrapposizione con lo stile un pochettino più moderno, eclettico, particolare e infuso di charactering di Sonic Ease. Quindi, insomma, anche qua abbiamo un incontro che sulla carta può sembrare disfunzionale ma in realtà le distanze tra i due lottatori riescono a creare un punto di intesa e, come al solito, quando avviene solo nel wrestling in questo genere di cose, ci regala un incontro molto particolare, molto divertente, molto godibile e molto solido dal punto di vista dell'azione sul quadrato. Quindi, sicuramente un incontro da guardare e probabilmente, secondo me, quello più divertente di questa puntata di Dark. Che dire, anche per questa settimana si conclude l'appuntamento con Salto nel Buio. Non mi resta che augurarvi di ritrovarvi al prossimo appuntamento che molto probabilmente non sarà la prossima settimana perché prendo qualche giorno di ferie anch'io finalmente, ma nel caso vi aspetto a quella dopo. Sempre per portarvi il sunto, il bignami, il recap super ristretto di quello che è successo a Elevation e Dark che, ricordo, sono sempre fruibili gratuitamente sulla piattaforma YouTube e ci vengono forniti dalla Hollywood Wrestling. Io sono sempre il vostro Thierry Tsunami Gerboa per AW Italian Podcast. Vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata. Grazie a tutti.